Amici softlib open source, benvenuti in questo primo video di una serie spero lunga che viene inaugurata di fatto oggi con delle recensioni di alcuni prodotti tecnologici e non che acquisto regolarmente. Si tratta per lo più di prodotti economici, non acquisto mai prodotti molto costosi perché semplicemente non non becchia ciò che ho in braccio ma perché mi piace provare cose cheap per vedere un po' come si sta evolvendo anche il mercato delle cinesate come vengono spesso chiamate cioè tutti quei gadget tecnologici di poco costo che si trovano per lo più di importazione cinese che però alle volte danno anche enormi soddisfazioni nell'utilizzo nonostante siano economiche. Quest'oggi vi presento le prime impressioni a caldo perché mi è appena arrivata praticamente della nuova tastiera che ho acquistato su Amazon acquistata, se mi seguite sul canale Telegram dedicato agli sconti, acquistata a 20€ Si tratta di una tastiera della Drevo, quindi un marchio anche molto conosciuto tra gli intenditori di tastiera è però una tastiera economica, 20€ appunto il prezzo, anche se era un 20€ per via dell'offerta del momento che se non ricordo male è anche attiva, quindi oggi il 8 di maggio 2023 è ancora attiva questa offerta quindi iscrivetevi al canale Telegram per poter acquistare a quel prezzo, trovate il link e supportare anche il canale. Viene venduta questa tastiera con diversi tipi di switch ci sono i switch quelli marroni, ci sono i switch quelli neri, ci sono i switch rossi Io ho preferito acquistare i switch rossi perché? Perché ho già una tastiera meccanica dotata di switch switch clicky e precisamente sono switch blue ed è una tastiera della Ajax, non so se conoscete il brand e ho voluto provare questa tastiera con gli switch rossi per capire un po' come sono gli switch rossi perché sono nuovo di questo mondo delle tastiere ma anche perché principalmente perché io lavoro spesso la sera tardi quindi vorrei evitare di svegliare tutto il vicinato con il mio digitare questo tipo di tastiera, questa tastiera con switch rossi è più silenziosa rispetto ai switch blu che fanno un casino della madonna sapete, se siete un po' appassionati del mondo delle tastiere sapete che gli switch blu sono odiati cioè sono malati da chi li utilizza ma sono odiati da tutta la gente che vi si trova attorno ma parliamo di questa tastiera dicevo questa è una tastiera Drevo modello T-Zona allora, impressioni a caldo Deferro, quindi la tastiera è molto pesante, molto robusta dà un senso di solidità non indifferente qui è possibile vedere, andiamo se lo faccio come i veri youtuber che giro senza fare casino allora, questo è il modello, la T-Zona allora, nella parte posteriore sono presenti i classici piedini per poterla rialzare cosa sempre molto gradita il cavo è un cavo di buona qualità di tipo telato quindi di quelli che non si intrecciano come dicono i veri gamer altra particolarità di questa tastiera è come potete vedere il layout si tratta di una tastiera 89 tasti compatta anche se, devo dire la verità rispetto a una tastiera full size come la gadgets che ho io non è che siamo tanto le dimensioni siano tanto più piccole perchè? perchè semplicemente guardate qui ci sono dei bordi che, comunque, sono per rispessi e quindi danno una sensazione di una tastiera un po' più grande del dovuto comunque, da quel che sto vedendo e anche andiamo per recensione questi piedini dicevo, come sto avendo sensazioni in questo momento vedo che diciamo che mi trovo bene sulla scrivania non da problemi giocando evito di sbattere con il mouse perchè è una delle cose che facevo spesso con la tastiera full size che significa una tastiera compatta di questo tipo? significa che come potete vedere ci sono i tasti funzione in seconda funzione quindi se dobbiamo evocare la calcolatrice fn e dobbiamo premere l'apposito tasto se dobbiamo vediamo se si funziona perchè l'ho appena avviata su linux tutti i tasti in seconda funzione però sono tutti quanti i tasti essenziali c'è anche il print screen che io utilizzo in una maniera assurda e perchè ho voluto prendere una tastiera compatta di questo tipo sia per l'offerta ma anche per il fatto che io ho necessità di un tastierino numerico i miei amici i miei compagni del canale telegram degli ex scappati di casa di google plus mi dicono sempre prendi una compatta e prendi il tastierino numerico a parte no io voglio il tastierino numerico sulla destra non voglio avere sulla scrivania il tastierino numerico a parte quindi preferisco una soluzione di questo tipo perchè voglio il tastierino numerico? perchè io lo utilizzo tantissimo faccio le missioni di numeri perchè lavoro nel campo della gestione condominiale e mobiliare disegno in CAD ho necessità di scrivere numeri e vado più veloce così semplicemente quindi voi tutti quanti odiatori dei tastierino numerici che lavoro fate per ci giocate solo con con la tastiera diciamo perchè altrimenti il tastierino numerico è una cosa vitale ma torniamo alla tastiera dicevo io ho scelto la configurazione con i switch rossi vi faccio sentire un attimo come suona apriamo un attimo sulla mia pop os scriviamo qualche cosa abbiamo il reddito di testo allora il suono devo dire che è piacevole dà meno soddisfazioni rispetto a una una tastiera con i switch con i switch blu però è più avattato a parte il suono della barra spazzatrice io ho notato questo qui il suono del backspace è un po' metallico quindi non so se si hanno utilizzato dei switch differenti o è perchè lo switch balla essendo più lungo degli altri tasti comunque i tasti normali i tasti delle lettere un bel suono dai un bel suono nel complesso la qualità costruttiva della tastiera la qualità costruttiva della tastiera vi dicevo prima è metallo bella pesante sulla scrivania fa la sua porca figura mi dà delle belle sensazioni in confezione oltre alla tastiera troviamo una prolunga di estensione per il per il cavo usb in modo tale da poterla collegare diciamo così anche se siete se avete il computer un po' al limite e quindi fa sempre comodo avere una prolunga usb e troviamo il strattore dei dei keycaps sono dei keycaps double shot quindi di quelli che dovrebbero durare di più come potete vedere sono tutti trasparenti quindi con gli effettini passiamo adesso invece a parlare degli effettini proprio il lupus infaura io attualmente l'ho configurata con l'illuminazione soltanto quella posteriore ho disattivato l'illuminazione laterale che di default troviamo vi faccio vedere perché l'ho disattivata allora fnz perché attivandola con l'illuminazione laterale fa un effetto un po' discoteca adesso ci sono tutte le luci accese quindi non non potete apprezzare però fa un effetto molto discutibile sulla scrivania soprattutto se come me avete il tappetino nero e può dare fastidio soprattutto qui soprattutto la retroilluminazione del del logo quindi meglio io preferisco tenerlo spento ovviamente 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 si possono cambiare tutti quanti i preset è possibile gestire l'illuminazione le combinazioni di tasti direttamente dalla dalla combinazione di tasti fn più l'apposito tasto queste sono alcune delle dei tipi di illuminazione diciamo questa è anche carina che fa l'effetto onda questa è quella lì che premete il tastino e si illumina tutta quanta molto scenografica questa questa qui non ho capito perché sta studiato soltanto quello questo è per avere spento e poi si illumina soltanto la fila vediamo questo qui questo effetto diciamo così si propaga tipo goccia questo è l'effetto do coglio coglio come lo chiamo io questo è l'effetto scarrettato effetto corsa effetto che fa tutta l'effetto onda così che si rigira e rigira questo è proprio più veloce effetto wave questo un po' si illumina diffusamente e questo è il default con tutto quanto acceso come la preferisco io perché perché mi piace poter vedere che cosa sto digitando non mi da particolarmente fastidio perché anche perché ho sempre il monitor del computer che è sparato con la luminosità alta quindi non mi da particolarmente fastidio quando quando sto lavorando principalmente perché la sera principalmente lavoro che dire dalle prime impressioni mi sembra un prodotto buono buono soprattutto in relazione al prezzo ovviamente ripeto non stiamo parlando di una tastiera costosa non stiamo parlando di una di quelle tastiere per i pomica da 100 e passa euro quindi la lubrificazione degli switch è quella di fabbrica preimpostata quindi non ci sono ottimizzazioni non ci sono così tanto ottimizzazione appunto per il backplate e quant'altro quindi per ammortizzare i rumori quindi è una tastiera meccanica da battaglia economica di sicuro è una tastiera migliore delle tante delle tante tastiere quelle che si trovano nei centri commerciali se volete entrare nel mondo delle tastiere meccaniche cercate un prodotto per poter sperimentare un po' per capire un po' se gli switch meccanici fanno al caso vostro vi consiglio di acquistare questo tipo di tastiere non solo questa qui questa driver nella fattispecie ma in generale tutte quelle tastiere meccaniche economiche che trovate su amazon in modo tale da farvi un'idea più o meno di com'è una tastiera meccanica e di farvi un'idea tra i vari switch qual è il tipo di switch più adatto a voi tralascia non vi non vi parlo di questa di questa recensione specifiche tecniche specifiche tecniche che troverete tutte quante in descrizione perché troverete link affigliazione amazon quindi andatevi a spucciare voi tutte le cose tecniche io vi parlo da la casalinga di vogliera come si utilizzava dire una volta vi parlo delle mie impressioni da non esperto di tastiere meccaniche questa è la mia seconda tastiera meccanica di fatto vi parlo da utente che si sta avvicinando per la prima volta a questo tipo di tastiera per me è un buon prodotto per quello che costa 20 euro se volete togliervi uno sfizio se volete provare vi dicevo una tastiera meccanica per capire se fa a caso vostro fateci un pensierino è presente con diversi switch con diversi colori quindi diverse colorazioni quindi potete anche prendere due una poi la restituite se non vi trovate con i switch potete approfittare del reso gratuito di amazon finché dura che dire fatemi sapere lasciate un commento se vi è piaciuta questa recensione sono molto impappinato in questa prima puntata di questa rubrica ho dato anche diversi colpi al cavalletto quindi siate siate delle persone umane non giudicatemi per la mia la mia goffaggine prometto che nelle prossime nelle prossime recensioni troverete una recensione più più come dire più professionale ecco come dicono i youtuber lunga vita e prosperità a tutti quanti e ci riascoltiamo nel podcast di marcosbox ci leggiamo sulle pagine di marcosbox o ci rivediamo in una prossima puntata delle recensioni di marcosbox è un saluto che vi faccio anche dai dei cagnolini questi sono cagnolini cinesi li trovate su aliexpress costano una fesseria sono bellissime per mettere sulla schivania per organizzare la schivania magari ve ne parlo in un'altra puntata ciao ciao anzi un capito e prosperità ciao ciao ciao